Ue ue ue, ma vieni un cornauto, quel che ripallano tra mezza, addio che si è chiotto, si è chiotto a strancio margiotto eh, ma fai un culo a te che ti ha cagato, stu merda. Oh, ma che è accaduto? Che ti ha già fatto? Come che mi hai fatto? Ti hai visto dritto la ciazza. E che faci aia dritto la ciazza? Giardà, a cucciata, che non ti ha l'orda come a te e mo ti invoro coraggio di... 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 non ti ha cenit. Sì, rilassati, che ti hai già prontato una visita dall'oculista. E quel oculista, oculista ci hai visto? Sto strunzo ma l'ha accettato fatendo. Che vai facendo tutto quanto... di fantasia, anche ricciuccio come a te. Ma l'ha accettato, io non ho già fatto niente. Sto sempre a insultarmi a dici parolacce. E poi chi è che ti ha parlato tra mezza? Eh? Ma io non ho modo da dire. Eh, ma tu parla malamente, spottavolino con quella voca. E ti stai un po' calma. La gente non sa cosa che potete pensare. Ma pensate a quello che cazzo vuole a me. Hai capito? Tu hai fatto una persona seria. Tieno una famiglia. Tieno quattro figli. Ne rompo quattro. Ho la figlia. Hai capito? Ma non è come la pensatona, faccio di chiacchiere con una persona. E sopra ti metto la pizza a clona. Ma non è come la pizza a clona e i cazzo. Tu non riesci a prendere la mano. E pure un'altra cosa può prendere tutto quanto. La famiglia è un po' calma. Ma va a fare ancora. Ma vai per parlare malamente. Sei molto calma. E non ha già fatto la propria ninta. La famiglia è a tu. E vai a lontana. Lontana! E tra te la chiacchi! Eh? Noi v- il controllo che idioma! Ti è calma! Ti è calma! Si texts, s' causa una pressione. Se non ti causa la prepressione. Ha 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 ha, non ciò c'è pure un pò in zà, ma cò se pille pure un bucò, che faccia tu sta ca tine? Io, le capei, sono usare a ceina venuseina, alla giazza sono sciuta sola, per trovare un'umazza di pòtraseina. Ha ha ha, ma vero cosa, come la volta la frattata, tu hai a fò o cuca? Io ti voglio bene a saia, e tu, testa cu iete, e pò, sinde bambè. La mano vaza, e a ziccata a me. Se tu fai una buona questione, non hai nessuno motivo di dare il gatto, ma se tu fai l'interesse di fare la comedia di giorno. Ma anche il giorno, perché c'è un cemento e i stigli plafonamenti. Non il giorno io, perché ora ti chiamo pure il giorno. Sì, non fai un feste, perché i pigli, la sardaccia, e te la rompono in capa. E che siete mie tu, sinde bambè, apposta. E che parete? Se hai mostrato calma, non è successo in India, una chiacchierata che uno fa con una persona. Già, se in prima pagina su tutti i giornali. Se hai mostrato calma, non è successo in India, meglio. Alla fine, per questa volta prendiamo le sei. Ma venga, avrò. Tutti i ghiarettoni e tutti i giornali. E tutto le portate. Ti prendi il tuo bagno. e ti tagli tutti i bardaoli e i gioielli della famiglia capite i gioielli ti faccio perdere fatendo ma scalzola farà butta che non sei altro va a fare un golo